Buon pomeriggio a tutti, un caro saluto. Anche oggi ci teniamo in contatto con alcuni aggiornamenti. La prima cosa che voglio dirvi è di consultare il sito del Comune di Pordenone. I telefoni del Comune scottano, ci sono centinaia di chiamate, ma molto spesso sono informazioni che potete ricavare autonomamente semplicemente consultando le nostre pagine. Troverete informazioni di ogni genere e tipo per poter orientarvi tra norme, ordinanze e anche suggerimenti per fare la spesa, comprare i farmaci, tutto quello che serve per affrontare al meglio l'emergenza virus. Per quanto riguarda i buoni spesa, sono già arrivate 200 domande, sono tantissime le persone che stanno chiamando per avere informazioni. Già oggi circa 20-25 famiglie riceveranno i primi buoni per fare la spesa. Se però ritenete di essere tra le categorie che possono ricevere questo contributo, cioè famiglie che hanno subito un grave contraccolpo in termini di reddito di entrata nel mese di marzo, consultate il sito e magari, se non orientate quella categoria, potete conoscere qualcuno che ne può beneficiare. Fatelo ed eventualmente, se avete dubbi sul regolamento o dubbi su come si compila la domanda, potete chiamare due numeri. Uno è lo 0434 392 680 e l'altro è 0434 392 999. C'è una batteria di persone che risponderà ai vostri inquisiti cercando di darvi tutti gli elementi per interpretare il regolamento e compilare la domanda. Mi appello anche a coloro i quali hanno attività di alimentari o di frutta e verdura o pescheria o macelleria, perché abbiamo bisogno anche dell'adesione di queste attività dicendo che accetteranno i buoni pasto in sostituzione dei soldi, dopodiché sarà il Comune ovviamente a rifondere quanto dovuto. Voglio fare anche un appello. In questi giorni abbiamo intensificato i controlli da parte della Polizia Locale perché abbiamo ricevuto innumerevoli sollecitazioni da parte dei cittadini che vedevano gente in giro, troppa gente in giro. Abbiamo fatto così, abbiamo messo anche le squadre dell'operazione civile a contare le persone che incontravano in alcune zone campione della città. Beh, devo dirvi che c'è parecchia gente in giro. Non parlo di migliaia, ma di centinaia sì. E allora dobbiamo essere estremamente chiari. L'emergenza non è finita. E' vero che i regolamenti lasciano, come dire, degli spiragli per poter aggirare la norma, portare il cane, fare la spesa, andare al tabaccaio, comprare il giornale, ma queste che sono regole di respiro non possono diventare un escamotage, uno stratagemma per aggirare costantemente i regolamenti e le norme. Non è così che funziona. Si può andare a comprare il giornale, ma una volta al giorno, non tre volte al giorno. Si può andare a fare la spesa una volta al giorno, non quattro volte al giorno, anzi meglio una volta alla settimana. Perché se non l'abbiamo capito, il contagio non è finito. E il contagio si prende andando troppo spesso in farmacia, toccando il bancone alla porta, andando a incontrare altre persone. Continuano le segnalazioni con foto di chi fa ginnastica in due o più persone o di chi si incontra senza rispettare le regole. E questo è profondamente ingiusto nei confronti di coloro i quali continuano invece a rispettare le norme, che sono la stragrande maggioranza. Chi si è imposto una clausura in queste settimane lo fa con la speranza che ci sia la fine di questo provvedimento. Ma se anche poche decine di persone continuano a rispettarlo, la fine non ci sarà mai. E le norme diventeranno più restrittive. Conseguentemente non è giusto che la stragrande maggioranza delle persone subisca una costruzione per l'effetto della sciocchezza, della stupidità delle persone che non le rispettano. Quindi cerchiamo di darci tutti una regola, altrimenti le norme diventeranno ulteriormente restrittive e non meno restrittive. Quindi dobbiamo darci una mano, dobbiamo stare responsabilità, senso civico, coesione, rispetto per noi stessi e rispetto per gli altri. Ripeto, diamoci tutti una regolata. Troppa gente in giro. Ci sono delle belle giornate, sì, ma c'è anche il virus. E come avete visto, il virus si diffonde con una facilità che non si pensava all'inizio, che non era immaginabile. Dobbiamo evitare anche le occasioni più improbabili di diffusione del contagio, perché se anche uno solo degli irresponsabili si contagia, può diventare anche a sua insaputa inconsapevolmente un distributore del contagio. E allora questo momento angosciante, questa esperienza terribile che stiamo vivendo, si protorrà ancora per parecchi altri mesi. Dato che c'è un piccolo barlume in fondo al tunnel, cominciamo a intraverderlo, alimentiamo, coltiviamo questa speranza, invece che affossarla e sotterrarla col comportamento stupido di tanta gente. Abbiamo visto anche noi persone che si mettono in fila al supermercato, marito e moglie, facendo finta di essere due clienti diversi, e poi appena entrano morano nel carrello e vanno insieme. Persone che portano i bambini al supermercato. Questo poi tra l'altro impone un supplemento di lavoro per la polizia, per la polizia municipale, che hanno altre cose a cui pensare, che non correre dietro la stupidità delle persone. Voglio anche dirvi che se volete, se ve la sentite, potete fare delle donazioni al comune. Non finiranno i vostri soldi del bilancio indistinto dell'amministrazione, ma serviranno a alimentare un fondo per dare una mano alle famiglie, alle persone che sono indigenti, che sono in difficoltà, che hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, che hanno subito un contracolpo economico durissimo dalla crisi, oppure per comprare presidi per le strutture sanitarie, sociali, assistenziali della nostra città. Troverete sia l'Iban per il conto corrente, sia quello per il banco posta, sul nostro sito del comune e ovviamente anche sui nostri social. Infine una proposta. Abbiamo visto che sui social proliferano, ed è bello, tanti tutorial, tante iniziative o anche delle sfide legate alla culinare, al mangiare, alla gastronomia. È una cosa intelligente, simpatica, è un modo per passare il tempo, per stare insieme anche in allegria. Bene, accanto a questo abbiamo pensato che serve il cibo per il corpo, ma serve anche il cibo per lo spirito. E conseguentemente a partire dalle associazioni che collaborano costantemente con il comune, i disegnatori, i artisti, i poeti, i scrittori, i giornalisti, vorremmo chiedere anche a voi, se avete un talento, se avete un interesse di mandarci una mail a sindacochiocciolacomune.pordenone.it sindacochiocciolacomune.pordenone.it Vogliamo creare un palinsesto per parlare della nostra città, per parlare di arte, per parlare di cultura, per parlare di libri, per parlare di natura, di cose interessanti. Cioè per consentire ai nostri bambini di ascoltare una favola, di fare un viaggio virtuale nei nostri musei, di raccontare la storia della nostra città o comunque di argomenti che siano diversi di quelli che quotidianamente sentiamo e soprattutto quelli del mangiare e bere perché lì ce ne sono in abbondanza. Ok? Quindi attendiamo le vostre mail per poi creare questo palinsesto che ci consentirà per alcuni minuti durante la giornata di stare bene insieme e di aspettare tempi migliori. Un abbraccio a tutti!